Ricetta facile, pomodori ripieni di merluzzo e brie. Pomodori ripieni di merluzzo e brie. Ingredienti. Pomodori, 4. Merluzzo, 150 g. Brie, 50 g. Prezzemolo, 15 g. Olio extravergine di oliva, cubi. Sale, cubi. Pepe, cubi. Preparazione. Lavare i pomodori e tagliarli a metà. Svuotare i pomodori aiutandosi con un cucchiaio, eliminando i semi. In una ciotola, sciogliere il brie a pezzetti con due cucchiai di olio extravergine. Mescolare il brie con il merluzzo, il prezzemolo tritato e un pizzico di sale e pepe. Riempire i pomodori con il composto di merluzzo e brie preparato. Disporre i pomodori in una teglia e condire con un filo di olio ed eventualmente un po' di sale. Cuocere i pomodori in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per 15 a 20 minuti. Servire i pomodori ripieni di merluzzo e brie caldi.